piena anche per gli olivi quell'annata piante massaie cariche l'anno avanti avevano raffermato tutte a dispetto della nebbia che le aveva oppresse sul fiorire lo sirafa che ne aveva un bel giro nel suo podere delle quote a primo sole prevedendo che le cinque giare vecchie di coccio smaltato che aveva in cantina non sarebbero bastate a contenere tutto l'olio della nuova raccolta ne aveva ordinata a tempo una sesta più capace a santo stefano di camastra dove si fabbricavano alta a petto d'uomo bella panciuta maestosa che fosse delle altre cinque la badessa neanche a dirlo aveva litigato con il fornacciaio di là per questa giara e con chi non l'attaccava don lollo zirafa per ogni non nulla anche per una pietruzza caduta dal murello di cinta anche per una festuca di paglia gridava che gli sellassero la mula per correre in città a fare gli atti così la folia di carta bollata ed onorari agli avvocati citando questo citando quello e pagando sempre le spese per tutti era mezzo rovinato dicevano che il suo consulente legale stanco di vederselo comparire davanti due o tre volte la settimana per levarselo di torno gli aveva regalato un libricino come quelli da messa il codice perché ci scappasse a cercare da sé il fondamento giuridico all'eliti che voleva intentare prima tutti coloro con cui aveva da dire per prenderlo in giro gli gridavano sellate la mula ora invece consultate il calepino e don lollo rispondeva sicuro e vi fulmino tutti figli d'un cane quella bella giara nuova pagata quattronze ballanti e sonanti in attesa del posto da trovarle in cantina fu allogata provvisoriamente nel palmento una giara così non s'era mai veduta allogata in quell'antro intanfato di mosto e di quell'odore acre e crudo che cova nei luoghi senza aria e senza luce faceva pena da due giorni era cominciata l'abbacchiatura delle olive e don lollo era su tutte le furie perché tra gli abbacchiatori e i mulattieri venuti con le mule cariche di concime da depositare a mucchi sulla costa per la favata della nuova stagione non sapeva più come spartirsi a chi badar prima e bestemmiava come un turco e minacciava di fulminare questi e quelli se un'oliva che fosse un'oliva gli fosse mancata quasi le avesse prima contate tutte a una a una sugli alberi o se non fosse ogni mucchio di concime della stessa misura degli altri col cappellaccio bianco in maniche di camicia spettorato affocato in volto e tutto sgocciolante di sudore correva di qua e di là zerando gli occhi lupigni e stropicciandosi con rabbia le guance rase su cui la barba prepotente rispuntava quasi sotto la raschiatura del rasoio ora alla fine della terza giornata tre dei contadini che avevano abbacchiato entrando nel palmento per deporvi le scale e le canne restarono alla vista della bella giara nuova spaccata in due come se qualcuno con un taglionetto prendendo tutta l'ampiezza della pancia ne avesse staccato tutto il lembo davanti guardate guardate chi sarà stato oh mamma mia e chi lo sente ora don lolò la giara nuova peccato il primo più spaurito di tutti proposi di raccostar subito la porta e andare via zitti zitti lasciando fuori appoggiate al muro le scale e le canne ma il secondo siete pazzi con don lolò sarebbe capace di credere che gliel'abbiamo rotta noi fermi qua tutti uscì davanti al palmento e facendosi portavoce delle mani chiamò don lolò ah don lolò eccolo là sotto la costa con gli scaricatori del concime testicolava al solito furiosamente dandosi di tratto in tratto con ambo le mani una rincalcata al cappellaccio bianco arrivava talvolta a forza di quelle rincalcate a non poterselo più strappare dalla nuca e dalla fronte già nel cielo si spegnevano gli ultimi fuochi del crepuscolo e tra la pace che scendeva sulla campagna con le ombre della sera e la dolce frescura avventavano ai gesti di quell'uomo sempre più infuriato don lolò don lolò quando venne su e vide lo scempio parve volesse impazzire si scagliò prima contro quei tre ne afferrò uno per la gola e lo impiccò al muro gridando sangue della madonna meno pagherete afferrato a sua volta dagli altri due stravolti nelle facce terrigne e bestiali rivolse contro se stesso la rabbia furibonda sbatacchiò a terra il cappellaccio si percosse le guance pestando i piedi e sbraitando a modo di quelli che piangono un parente morto la giara nuova quattronze di giara non incignata ancora voleva sapere chi gliel'avesse rotta possibile che si fosse rotta da sé qualcuno per forza doveva averla rotta per infamità o per invidia ma quando ma come non gli si vedeva segno di violenza che fosse arrivata rotta dalla fabbrica ma che sonava come una campana appena i contadini videro che la prima furia gli era caduta cominciarono ad esortarlo a calmarsi la giara si poteva sanare non era poi rotta malamente un pezzo solo un bravo conciabrocchie l'avrebbe rimessa su nuova c'era giusto zittima il casi che aveva scoperto un mastice miracoloso di cui servava gelosamente il segreto un mastice che neanche il martello ci poteva quando aveva fatto presa ecco se don lo lo voleva domani alla punta dell'alba zittima il casi sarebbe venuto lì e in quattro e quattrotto la giara meglio di prima don lo lo diceva di no a quelle esortazioni che era tutto inutile che non c'era più rimedio ma alla fine si lasciò persuadere e il giorno appresso all'alba puntuale si presentò a primo sole zittima i casi con la cesta degli attrezzi dietro le spalle era un vecchio sbilenco dalle giunture storpie e nodose come un ceppo antico di olivo saraceno per cavargli una parola di bocca ci voleva l'uncino mutria o tristezza radicate in quel suo corpo deforme o anche sconfidenza che nessuno potesse capire e apprezzare giustamente il suo merito d'inventore non ancora patentato voleva che parlassero i fatti zittima i casi doveva poi guardarsi davanti e dietro perché non gli rubassero il segreto fatemi vedere codesto mastice gli disse per prima cosa don lo lo dopo averlo squadrato a lungo con diffidenza zittima negò col capo pieno di dignità all'opera si vede ma verrà bene zittima posò a terra la cesta ne cavò un grosso fazzolettone di cotone rosso logoro e tutto avvoltolato prese a svolgerlo pian piano tra l'attenzione e la curiosità di tutti e quando alla fine venne fuori un paio d'occhiali col sellino e le stanghette rotte e legate con lo spago lui sospirò e gli altri risero zittima non se ne curò si pulì le dita prima di pigliare gli occhiali se li inforcò poi si mise a esaminare con molta gravità la giara tratta sull'aie disse verrà bene col mastice solo però disse per patto lo zirafa non mi fido ci voglio anche ai punti me ne vado rispose senz'altro zittima raddezzandosi e mettendosi la cesta dietro le spalle non lo lo acchiappò per un braccio dove messere porco così trattate ma guarda un po' che arie da carlo magno scannato miserabile pezzo d'asino ci devo mettere olio io là dentro e l'olio trasuda un miglio di spaccatura col mastice solo ci voglio i punti mastice punti comando io zittima chiuse gli occhi strinse le labbra e scosse il capo tutti così gli era negato il piacere di fare un lavoro pulito filato coscienziosamente a regola d'arte e di dare una prova della virtù del suo mastice se la giara disse non suona di nuovo come una campana non sento niente lo interruppe don l'olà i punti pago mastice i punti quanto vi debbo dare se col mastice solo cazzica a testa esclamò lo zirafa come parlo v'ho detto che ci voglio i punti ci intenderemo a lavoro finito non ho tempo da perdere con voi e se ne andò a badare ai suoi uomini zittima si mise all'opera gonfio d'ira e di dispetto e l'ira e il dispetto gli crebbero ad ogni foro che praticava col trapano nella giara e nel lembo spaccato per farvi passare il fil di ferro della cucitura accompagnava il frullo della saettella con grugniti a mano a mano più frequenti e più forti e il viso gli diventava più verde dalla bile e gli occhi più aguzzi accesi di stizza finita quella prima operazione scagliò con rabbia il trapano nella cesta applicò il lembo staccato alla giara per provare se i fori erano a ugual distanza e in corrispondenza tra loro poi con le tenaglie fece del fil di ferro tanti pezzetti quanti erano i punti che doveva dare e chiamò per aiuto uno dei contadini che abbacchiavano coraggio zittima gli disse quello vedendogli la faccia alterata zittima alzò la mano a un gesto rabbioso aprì la scatola di latta che conteneva il mastice e lo levò al cielo scotendolo come per offrirlo a dio visto che gli uomini non volevano riconoscere le virtù poi col dito cominciò a spalmarlo tutti in giro al lembo staccato e lungo la spaccatura prese le tenaglie e i pezzetti di fil di ferro preparati avanti e si cacciò dentro la pancia aperta della giara ordinando al contadino di applicare il lembo alla giara così come aveva fatto lui poc'anzi prima di cominciare a dare i punti tira disse dall'interno della giara al contadino tira con tutta la tua forza vedi se si stacca più ma l'hanno a chi non ci crede picchia picchia suona sì o no come una campana anche con me qua dentro va a dirlo al tuo padrone chi è sopra comanda zittima sospirò il contadino chi è sotto si danna date i punti date i punti e zittima si mise a far passare ogni pezzetto di fil di ferro attraverso i due fori accanto una di qua e l'altro di là della serratura e con le tenaglie ne attorceva i due capi ci volle un'ora a passarli tutti i sudori giù a fontana dentro la giara lavorando si lagnava della sua mala sorte e il contadino di fuori a confortarlo ora aiutami a uscirne disse alla fine zittima ma quanto larga la pancia tanto quella giara era stretta di collo zittima nella rabbia non ci aveva fatto caso ora prova e riprova non trovava più il modo di uscirne e il contadino invece di dargli aiuto eccolo là si torceva dalle risa imprigionato imprigionato lì nella giara da lui stesso sanata e che ora non c'era via di mezzo per farlo uscire doveva essere rotta da capo e per sempre alle risa alle grida sopravvenne Don Lollò zittima dentro la giara era come un gatto inferocito fatemi uscire urlava corpo d'un dio voglio uscire subito datemi aiuto Don Lollò rimase dapprima come estordito non sapeva crederci ma come là dentro sei cucito là dentro si accostò alla giara e gridò al vecchio aiuto e che aiuto posso darvi io vecchiaccio stolido ma come non dovevate prendere prima le misure su provate fuori un braccio così e la testa su no 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 piano che giù aspettate così no giù 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 ma come avete fatto e la giara adesso calma 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 si mise raccomandare tutto intorno come se la calma stessero per perderla gli altri e non lui mi fuma la testa calma in questo caso è nuovo la mula picchiò con le nocchie delle dita sulla giara suonava davvero come una campana bella rimessa al nuovo aspettate disse il prigioniero va a sellarmi la mula ordinò il contadino e grattandosi con tutte le dita alla fronte seguitò a dire tra sé ma vedete un po' che mi capita questa non è giara questo è ordigno del diavolo fermò fermo lì e si accorse a regger la giara in cui zittima furibondo si dibatteva come una bestia in trappola caso nuovo caro mio che deve risolvere l'avvocato io non mi fido la mula la mula vado e torno abbiate pazienza nell'interesse vostro intanto piano calma io mi guardo i miei e prima di tutto per salvare il mio diritto faccio il mio dovere ecco vi pago il lavoro vi pago la giornata cinque lire vi bastano non voglio nulla gridò zittima voglio uscire uscirete ma io intanto vi pago qua cinque lire le cavò dal taschino del panciotto e le buttò nella giara poi domandò premuroso avete fatto colazione pane e companatico subito non ne volete buttatelo ai cani a me basta che ve l'abbia dato ordinò che gli si desse montò in sella e via di galoppo per la città chi lo vide credette che andasse a chiudersi da sé in manicomio tanto in così strano modo gesticolava per fortuna non gli toccò di fare anticamera nello studio dell'avvocato ma gli toccò d'attendere un bel po' prima che questo finisse di ridere quando gli ebbe esposto il caso delle risa si stizzi che c'è da ridere scusi a vostra signoria non brucia la giara è mia ma quello seguitava a ridere e voleva che gli si rinarrasse il caso come era stato per farci su altre risate dentro eh sarà cucito dentro e lui don lolò che pretendeva te te ne tenerlo là dentro tenerlo là dentro per non perderci la giara ce la devo perdere domandò lo zirafa con le pugna serrate il danno e lo scorno ma sapete come si chiama questo gli disse infine l'avvocato si chiama sequestro di persona sequestro e chi l'ha sequestrato esclamò lo zirafa se è sequestrato lui da sé che colpe ne ho io l'avvocato allora gli spiegò che erano due casi da un canto lui don lolò doveva subito liberare il prigioniero per non rispondere di sequestro di persona dall'altro il conciavrocche doveva rispondere del danno che veniva a cagionare con la sua imperizia o con la sua storditaggine rifiatò lo zirafa pagandomi la giara e piano osservò l'avvocato non come se fosse nuova badiamo e perché ma perché era rotta o bella rotta no signore ora è sana meglio che sana lo dice lui stesso e se ora torno a romperla non potrò più farla risanare già la perduta signor avvocato l'avvocato gli assicurò che se ne sarebbe tenuto conto facendogliela pagare per quanto valevo e nello stato in cui era adesso anzi gli consigliò fatela stimare avanti da lui stesso bacio le mani disse don lolò andando via di corsa di ritorno verso sera trovò tutti i contadini in festa attorno alla giara abitata partecipava alla festa anche il cane di guardia saltando e abbaiando si tima si era calmato non solo ma aveva preso gusto anche lui alla sua bizzarra avventura e ne rideva con la gaiezza mala dei tristi lo zirafa scostò tutti e si sporse a guardare dentro la giara ah ci stai bene benone al fresco rispose quello meglio che a casa mia piacere intanto ti avverto che questa giara mi costò quattronze nuova quanto credi che possa costare adesso con me qua dentro domandò zittima i villani risero silenzio gridò lo zirafa delle due l'una o il tuo mastice serve a qualche cosa o non serve a nulla se non serve a nulla tu sei un imbroglione se serve a qualche cosa la giara così com'è deve avere il suo prezzo che prezzo stimala tu zittima rimase un pezzo a riflettere poi disse rispondo se lei me l'avesse fatta conciare col mastice solo come io volevo io prima di tutto non mi troverei qua dentro e la giara avrebbe supergiù lo stesso prezzo di prima così conciata con questi puntacci che ho dovuto darle per forza di qua dentro che prezzo potrei avere un terzo di quanto valeva sì e no un terzo domandò lo zirafa un onza e trentatré meno sì più no ebbene disse don lolò passi la tua parola e dammi un onza e trentatré che fece zittima come se non avesse inteso rompo la giara per farti uscire rispose don lolò e tu dice l'avvocato me la paghi per quanto l'hai stimata un onza e trentatré io pagare schignazzò zittima vossignoria scherza qua dentro ci faccio i vermi e tratta di tasca con qualche stento la pipetta intartarita l'accese e si mise a fumare cacciando il fumo per il collo della giara don lolò ci restò brutto quest'altro caso che zittima ora non volesse più uscire dalla giara né lui né l'avvocato l'avevano previsto e come si risolveva adesso fu lì per lì per ordinare di nuovo la mula ma pensò che era già sera ah sì disse tu vuoi domiciliare nella mia giara testimoni tutti qua non vuole uscire lui per non pagarla io sono pronto a romperla intanto poiché vuole stare lì domani io lo cito per alloggio abusivo e perché mi impedisce l'uso della giara si tima cacciò prima fuori un'altra boccata di fumo poi rispose placido e no signore non voglio impedirle niente io sto forse qua per piacere mi faccia uscire e me ne vado volentieri pagare neanche per scherzo vossignorie non lolò in un impeto di rabbia alzò un piede per avventare un calcio alla giara ma si trattenne la abbrancò invece con ambo le mani e la scrollò tutta tremendo vede che mastice gli disse Zittima pezzo da galera ruggì allora lo zirafa chi l'ha fatto il male io o tu e devo pagarlo io muori di fame là dentro vediamo chi la vince e se ne andò non pensando alle cinque lire che gli aveva buttate la mattina dentro la giara con esse per cominciare Zittima pensò di far festa quella sera coi contadini che avendo fatto tardi per quello strano accidente rimanevano a passar la notte in campagna all'aperto sull'aia uno andò a far la spesa in una taverna lì presso a farlo apposta c'era una luna che pareva fosse raggiornato a una cert'ora don lolò andato a dormire fu svegliato da un baccano d'inferno s'affacciò a un balcone della cascina e vide sull'aia sotto la luna tanti diavoli e contadini ubriachi che presisi per mano ballavano attorno alla giara Zittima là dentro cantava a squarciagola questa volta non poté più reggere don lolò si precipitò come un toro infuriato e prima che quelli avessero tempo di pararlo con uno spintone mandò a rotolare la giara giù per la costa rotolando accompagnata dalle risa degli ubriachi la giara andò a spaccarsi contro un olivo e la vinse Zittima grazie a tutti